Pena ridotta a 24 anni per Gezzi Malla, il muratore albanese che nell'aprile del 2021 uccise con 12 martellate la moglie Dorina nella loro casa di Pove del Grappa. È la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha riformato quella di primo grado della Corte d'Assise di Vicenza che aveva condannato il muratore 54enne all'ergastolo. In aula è prevalsa la tesi della difesa dell'avvocato Chiara Bellini che ha puntato sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come il comportamento collaborativo, la situazione familiare e le testimonianze di vicini e parenti oltre al fatto che l'uomo non aveva precedenti penali e aveva confessato subito il delitto. Il femminicidio avvenne nella casa della coppia Pove del Grappa, una lite violenta e i due figli minorenni che avevano trovato rifugio sotto il letto della loro cameretta mentre avveniva l'omicidio della mamma. La Corte d'Appello di Venezia ha revocato anche la decadenza della responsabilità genitoriale confermate invece la provvisionale da 100.000 euro per ciascuno dei due figli.